è chiuso? guarda lì, il duce, guarda che testa, testa di quiz buongiorno prendo le mascherine e poi che ce le ho tutte ma fanno schifo prendo queste qua perchè qua il tessuto poi le perdo guarda il nostro cormorano è sempre lì, quello è il suo palo questi uccellini ci servono bisogna entrare qua a vedere qua la gente mangia e sai cosa perde grazie 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 grazie